La direzione distrettuale antimafia del capologo Lucano ha in mano elementi certi che potrebbero portare ad una possibile svolta per l'individuazione dei sicari di Domenico Di Lascio, l'imprenditore di Lago Negro, ucciso l'11 gennaio 1989 mentre si trovava nell'ufficio del mobilificio di sua proprietà a Nemoli. I killer, almeno due, gli spararono alcuni colpi di pistola mentre era al telefono con una donna che poi diede l'allarme. La DDA Potentina, che ha riaperto le indagini a distanza di 35 anni, sta cercando adesso testimonio oculari o elementi utili intorno ad un'auto, una Fiat regata o una Fiat argenta, che potrebbe essere stata notata nei giorni precedenti in omicidio in un raggio di 10 chilometri dal mobilificio, in particolare nei territori di Nemoli, Lauria, Latronico, Episcopia, Francavilla-Insigni, Sinise e Sant'Arcangelo. L'auto potrebbe essere quella utilizzata dagli assassini di Di Lascio. Chi ricorda qualcosa, ha spiegato il procuratore della Repubblica, può mettersi in contatto con il comando provinciale di Potenza dei Carabinieri o inviare una mail alla Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza. C'è una possibile svolta, noi abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, ci siamo impegnati a fondo, ma la giustizia si nutre anche della collaborazione dei cittadini e per questo che ci siamo rivolti ai mezzi di informazione. rimaniamo in attesa di un riscontro, potete entrare in contatto con i Carabinieri a Potenza, potete entrare in contatto con la Procura anche telefonicamente con una mail per concordare evidentemente in modo riservato, in modo appropriato un incontro per raccogliere la testimonianza.